Buongiorno, oggi praticamente ho scelto la giornata più calda per fare questo giro erano mesi che lo volevo fare vediamo come va ci vediamo dopo, non vi dico dove vado quello lì che si intravede lì è Bramagliano, io dovrei andare su questo monte qua penso, non lo so ora capite, fa che la stagione più barca è andata a bicicletta e a Marene la studiege mi sono sempre chiesto questa valle qua dove andasse a finire, ci sono mai passato quello là è dove devo andare io, Rigolo vediamo un po' anche questa dunque, è finito il primo pezzo di... appena c'è un po' di piano fate questi giri fategli allenati, non fate come me che non prendono più in mano la bicicletta e poi si inventano che vogliono andare a Santa Franca un fenomeno, un fenomeno sono comunque ormai siamo in ballo, balliamo ma... scusate per grupparlo ci vedi lì? no? sicuro? vabbè io ci vado lo stesso eh, perchè degli asini non mi fido no? 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 località roncolò che gli ho patito come una bestia bellissimo beh questo è un po' inquietante sembra un po' film dell'orrore finalmente vedo gruppallo morale torna un po' ora facciamoci da mangiare abbiamo preso le birrette tanto aspettiamo che la pasta tieni fuori comunque dove mangio non ha niente male c'è bel frasco non ci sono neanche le mosche mi raccomando una cosa fondamentale quando andate via lasciate tutto in ordine come quando l'avete trovato iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo giro sono disfatto ciao ciao